furor gallico bunker tv grazie mille di essere venuti a voi stasera solo in quattro in genere in otto in genere in otto chi manca ci sono a causa c'è paolino che sono i flauti fabio che suona il basso mirco la batteria e mattia la chitarra che ci sta seguendo per questo tour che c'è stefano che è il chitarrista di l'altro chitarrista di furor gallico che in questo momento a londra e quindi abbiamo questa nostra formazione tour quando è iniziato tour realizzato il 7 di febbraio siamo partiti al keller di bergamo non ci eravamo già stati comunque diverso tempo fa e siamo stati poi a brescia non mi ricordo più a grandate breccia il colon siamo stati al median sabato si abbiamo suonato poi a milano a blackhall il giorno dopo all'estabi ad ornavasso è vero e adesso vuoi trassare le tour scusami chiuderemo poi comprato il 24 poi il 25 a modena e il 26 a a seregno un onkytonky e ci sarà una tappa anche a romagnano cesaro quello l'arena con storm lord e elven king settimana prossima settimana prossima che peraltro quella è una data che ha pensato bagana per creare una sorta di trittico che comunque siamo tutti e tre band sotto sotto bagana quindi volevamo proprio creare questo mini festival diciamo così tra l'altro verranno tutte qua quindi di volta in volta potevate venire tutti insieme facevamo il trio qua non c'era parcheggio e poi qua mi sa che non ci stavamo adesso il caldo aumenta e voi in studio per il prossimo album leggevo è vero ce la fate tra tour e studio è vero e ce la facciamo perché in studio ci siamo già stati quindi ormai lo studio l'abbiamo già abbandonato è già finito stiamo aspettando le ultime lavorazioni a livello di cose che non fare i fonici che non dovremmo fare infatti noi abbiamo finito quando abbiamo già dato e quando uscirà non si sa ancora la data precisa vedremo in questo periodo insomma con con bagana come come procedere con l'uscita del disco sicuramente l'album ce lo ce lo potete già dire o temporeggiamo possiamo anche che si temporeggia si temporeggia ci diamo gli album prime invece possiamo dirlo almeno furor gallico il pezzo che fate stasera è da lì si è presente noi abbiamo pubblicato un demo nel 2009 e un disco nel 2010 poi ristampato nel 2011 con massacre massacre come si pronuncia e questo brano è presente in entrambi questi cd è uno dei primi che abbiamo scritto mi sa tipo il terzo che abbiamo che abbiamo scritto ci siamo parecchi affezionati un po perché comunque le prime creature sono sempre le più belle cioè e peraltro è un brano che parla di questa città milano noi adesso siamo sparsi per il nord italia lui stesso viene da da novara però diciamo che se così si può dire fulcro iniziale è milano quindi l'album il titolo te lo faccio presentare a te perché non te lo ricordi no almeno il titolo è vero in genere mi dimentico i pezzi vedi non questa volta ragazzi io vi lascio suonare grazie mille ci vediamo quando ci direte il titolo dell'album va bene per il prossimo e vi aspettiamo vi aspettiamo per la prossima puntata insieme perfetto grazie mille a te divertito te grazie grazie a tutti grazie a tutti oltre le alpi il destino ti aspetta nella terra che chiameranno la gallia cisalpina la tua stirpe rimarrà nella storia luogo sacro landa in mezzo sarà di te noi conserviamo la memoria del luogo che chiamiamo Merela grazie a tutti la troverai finalmente la tua terra terra di fiume terra di fiumi boschi cacciagione in quantità i segni i segni degli dei ti guideranno il tuo destino luogo sacro landa in mezzo tu arriverai la tua stirpe rimarrà nella storia la tua stirpe rimarrà nella storia luogo sacro landa in mezzo sarà di te noi conserviamo la memoria del luogo che chiamiamo Merela luogo sacro landa in mezzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti We are not walking to the end of time, time will come for the glory of stone We are not walking to the end of time, time will come for the glory of stone We are not walking to the end of time, time will come for the glory of stone We are not walking to the end of time, time will come for the glory of stone The glory of stone